Siamo Filippo Carbone e gioco a calcio nell'Under 14 del Genoa. Questo è il settimo anno che sono a Genoa e ho vissuto molte esperienze belle. È molto difficile mantenere un equilibrio tra la scuola e il calcio e anche le uscite con gli amici perché io mi alleno quattro volte alla settimana ed è molto faticoso. Il mio tempo libero lo passo qua nel mio quartiere a Castelletto. Ci sediamo sulle panchine, parliamo delle nostre cose, ridiamo, scherziamo e poi quando abbiamo fame o sete possiamo prendere un gelato o una granita da Don Paolo. Mi chiamo Jeff Ekator, ho 12 anni, ho iniziato a giocare a 5 anni e poi un giorno mi ha chiamato il Genoa. Ho origine nigeriane però sono nata a Genova, ho quattro sorelle e ci vado d'accordo e sono fiera di averne quattro. Mi piace tantissimo la pizza però non la mangio sempre per gli allenamenti e quindi la mangio soltanto di sabato quando posso e non ho partite niente. Il mio giocatore preferito del Genoa è Christian Quame, dal suo stile di gioco mi piace tantissimo e mi piace andare allo stadio a vederlo e mi piace seguire il Genoa in tutto, letteralmente. Mi chiamo Vincenzo Sequino, ho 14 anni e sono un difensor centrale dell'Under 14 del Genoa. Questo è il secondo anno che gioco nel Genoa e vengo da Napoli. Per venire qua ho lasciato molti miei amici, miei parenti e la mia famiglia. È stato molto difficile, scuola nuova, amici nuovi e tutto, perché ho solo 13 anni e quindi non è tanto facile. Mi hanno accolto molto bene i miei amici, soprattutto quelli della squadra e anche il mister Leo. Mi trovo bene qua a Pegli, è molto bella, è un po' simile a Napoli, però mi sono abituato. Grazie a tutti.